Ehi, come stai? Benvenuta nel mio salone ASMR. Io sono Chiara. E oggi mi prenderò cura dei tuoi capelli in un modo un po' particolare, ok? In un modo decisamente ASMR. E allora, prima di tutto, hai preso l'appuntamento? Come agenda. Ne abbiamo uno molto speciale. Guardate. Bello. Ancora un pochino, perché non riesco mai a mettere quando sti sottentando anche solo il suono. Ok, allora... Ok, allora... Ok, ecco di qui. 19.30, giusto? Ok. Senti qua, senti qua. Abbiamo i migliori accessori. Ok. Allora... Tu mi avevi detto che volevi un semplice taglio di capelli, ok? Mhm. Fammi vedere. Ok, fammi vedere, fammi vedere. Perfetto. Perfetto. Adesso... Sai cosa facciamo? Andiamo prima a spazzolarli un po', ok? Poi... Li bagniamo un pochino. Non abbiamo... Non vogliamo... Lavarli, eccetera. Perché di certo non abbiamo bisogno del phon ad agosto. E poi... Lì, zac 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 zac. Tagliamo, ok? Vedo che hai un pochino di nodia. Non ti preoccupare, adesso li sciogliamo subito. E dopo poi giusto una spuntatina, magari... La frangia. Ok. Giusto il ciuffo, va bene. Ma effettivamente sta diventando un po' lungo. Ok. 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 Ecco qui. Adesso... Mi faccio tornare a vedere un attimo. Li bagniamo leggeramente. Dopo cominciamo... A tagliare la frangia. Spuntare qualche doppia punta. Allora di che... Chiudi gli occhi. E poi... Ho visto i tuoi capelli sono umidini. Li spazzoliamo ancora. Giusto un secondo. E poi... E poi... E poi... E poi... per fare uniformare il liquido ok adesso quindi partiamo dalla frangia ecco qua e ecco qua hai dei capelli stranamente più lunghi degli altri anche ecco qua hai dei capelli al centro della frangia e non capisco assolutamente perchè ok di che lunghezza la vorresti ok ancora un po' sì mi ricrescono subito i capelli qui non ti preoccupare non faccio non faccio nulla di drastico semplicemente secondo me ok adesso io direi che possiamo tagliare un pochino le doppie punte che vedo in giro ok e dopo andrò semplicemente a togliere l'eccesso con il pennello sul tuo collo un po' sul tuo uito ti sono caduti un po' di capelli e poi abbiamo fatto ok 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 ce li ho fatti leggermente scalati come erano prime insomma come erano prime insomma un giro massaggio la testa un attimo diamo anche così un po' più di volume ai capelli ecco qua allora adesso andiamo a togliere giusto i capelli che ti sono arrivati sul viso ecco qua ecco qua ok ok perfetto 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 va che prendiamo un altro appuntamento per magari un massaggio alla testa la prossima volta ok ma si settembre ottobre ogni tanto un piccolo vizio ci sta guardiamo guardiamo io ho tempo venerdì dodici o lunedì quindici se no passiamo a ottobre novembre il 16 di novembre no aspetta l'11 di ottobre alle ore sempre 19.30 ok allora perfetto perfetto ti ho segnato allora alla prossima spero che tu ti sia rilassata e un bacio ciao ciao